Aveva denunciato di stupro l'ex marito, adesso ha ritirato la querella ma per l'uomo si andrà comunque a processo. La vicenda risale allo scorso maggio quando nelle campagne cortonesi il 38enne trovò la donna in auto assieme ad un amico. A quel punto l'uomo in preda ai fumi della gelosia avrebbe aggredito la coppia, prima tirando fuori lei dalla macchina e poi trascinandola con forza sino a casa dove si sarebbe consumato l'abuso. Per lui schiattarono le manette, adesso sia la donna che l'amico hanno ritirato la querella ma il GIP a Pier Giorgio Ponticelli ha comunque rinviato a giudizio l'uomo. Il processo prenderà avvio il prossimo 9 aprile. D'altra parte questo è inevitabile in una situazione di questo tipo, la scelta che abbiamo fatto strategicamente insieme all'assistito è quella di andare a processo. Niente riti abbreviati, niente patteggiamenti perché lì c'è la possibilità di dimostrare quello che noi in fondo abbiamo detto fin dall'inizio, nel senso che il rapporto c'è stato, sessuale, però è stato consensuale nel senso che la donna non è stata violentata. Nell'ex moglie e nell'amico malmenato si sono costituiti parte civile. Il 38enne ancora si trova nel carcere di Terni perché è ritenuto pericoloso, illegale, ha chiesto la scarcerazione. Sull'uomo pesa una lunga serie di capi di imputazione, atti sessuali aggravati, lesioni, danneggiamenti, minacce, possesso di armi improprie. Furono trovate nel corso di una perquisizione alcune mazze da baseball ed una penna pistola.